Serena Williams, numero uno del mondo del tabellone, non vuole sentire parlare di rivincita ora che nella semifinale di Roma ritrova l'Aivanovic sul suo cammino. L'ultima volta era stato al quarto turno degli Australian Open di quest'anno e la serba aveva ottenuto la prima vittoria negli scontri diretti dopo 4KO.